Amici di Inter, fan tv.com, fcinternews.it, cuori forti, nerazzurri bentornati da Michele Borrelli a interagire, mercato, buon anno, ancora buon anno a tutti, poi nei prossimi giorni gradualmente torneranno le consuete dirette, io vedo già qua un messaggio, Davide, grazie Davide, ti saluto, dice il grande direttore, so che presto lo servono top a centrocampo, Barella è un altro campione da affiancare a Epic e al Ninja, se verrà recuperato, Vesino, Joao e Gallia non penso ci porteranno lontano, io volevo proprio approfondire questo discorso di mercato, intanto, ripeto, vi rinnovo gli auguri di buon anno, io sono ancora nella neve della Puglia, ma tra qualche giorno farò ritorno, anche perché stanno per tornare le partite, mi dispiace che un messaggio che mi sembrava così normale, è riuscito anche se per un paio di commenti a provocare qualche polemica, lo ribadisco ancora una volta, prima di tuffarci nell'argomento mercato, siamo come InterfanTV contro ogni tipo di discriminazione e non mi piace nemmeno fare le classifiche di quale sia la discriminazione peggiore, è ovviamente contro ogni tipo di violenza verbale e fisica, e per quanto riguarda la violenza verbale cerco anche di combattere, perché vedo davvero dei commenti anche su pagine ufficiali, di società di calcio, di chiunque, davvero, andate a vedere anche le testate giornalistiche, un giornale sportivo qualsiasi, andate a vedere su Facebook e non li cancellano spesso, mentre noi ci battiamo anche per cercare di avvertire, di non scrivere determinati vocaboli, di cancellare in automatico sulla pagina di InterfanTV determinati vocaboli, però non voglio allungare troppo su questo perché ci sono, so che vi piace parlare tanto di mercato e siamo all'interno del mercato, ma come avete visto forse già dal titolo, è iniziato il mercato sì, ma di giugno, di giugno con questo grandissimo giocatore che non ha firmato, attenzione lo diciamo, io anche su Facebook ho scritto dovrebbe, nel senso che è una possibilità concreta, ma le firme per i giocatori svincolati si possono apporre alla fine del mercato di gennaio, quindi manca praticamente il mese di gennaio e poi lo stesso Godin che va a scadenza, se non rinnova con l'altre di Madrid può scegliere la sua prossima destinazione, avete visto anche, non so se avete sentito le parole di Simeone che cerca di tirare l'acqua al suo mulino, stiamo parlando di un difensore centrale fortissimo, un difensore centrale che lo stesso Samuel definì a un certo punto, credo fosse intorno agli ultimi anni della carriera di Samuel all'Inter, tra il 2012 e il 2014, chi può essere il più forte difensore del mondo? Lui disse proprio, fece il nome di Godin, che è un difensore che ha il carisma, la personalità, non a caso è capitano di una squadra con allenatore Simeone, decisivo nella sua nazionale, nell'Uruguay, fortissimo, fortissimo sulle palle inattive quando si spinge in avanti e ne sa qualcosa l'Italia, lo ricorderete tutti, uno bisognava marcare, perché poi lo sanno tutti, che lui di testa è forte, calcio d'angolo per l'Uruguay, gol di testa di Godin e l'Italia va a casa dei mondiali di Brasile del 2014, tra l'altro l'ultima partita dell'Italia mondiale, perché nel 2018, come sapete, non li ha fatti. Ora ovviamente il tifoso dell'Inter è particolare, allora si dice l'Inter sta per prendere o può prendere, è vicino a prendere Godin, è vecchio, sostituisce Skriniar, se ne va allora uno forte. No, allora, le notizie vanno commentate un passo alla volta, non è che c'è la matematica per niente, come ha detto anche lo stesso direttore sportivo dell'Inter, non so se avete sentito, ma comunque la potete recuperare anche sui nostri social, su FC Inter News, l'intervista di ausilio di questi giorni. Allora, ci sono determinati parametri da rispettare, parametri non significa per forza le sanzioni, anche perché l'Inter in primavera dovrebbe uscire dal settlement agreement. Poi a seconda delle occasioni si può fare una scelta o un'altra, non c'è niente di già scritto, di preordinato o di obbligatorio, continuo a sentire, a leggere purtroppo, questa storia dei 50 milioni, oggi anche il carissimo interista che noi ospitammo anche nella prima Inter TV, Aldo Vitali, direttore di TV su Risi e Canzoni, dice, eh, sapete, l'Inter deve fare 50 milioni di plus valenze, ormai queste 50 milioni di plus valenze risuona nell'aria, non è assolutamente obbligatorio. L'Inter deve portare a pareggio il bilancio, tra l'altro vediamo anche in primavera, la UEFA, se può già determinare prima del 30 giugno l'uscita dal settlement agreement. Comunque, a prescindere da quello, vi invito a recuperare una video news di qualche tempo fa, se andate nella playlist video news, proprio nel titolo trovate 50 milioni di plus valenze obbligatorie, ecco perché non è assolutamente vero e dura meno di 10 minuti, quindi è inutile adesso ripetere sempre le stesse cose. Così come la cessione del BIG non è obbligatoria, adesso va di modo a dire, no, è la politica di Marotta è cedere il BIG. Non è che ha ceduto Pogba perché la sua politica era cedere. Pogba, quando stava alla Juventus, aveva un accordo che se fosse arrivata una società che gli offriva più di 10 milioni di euro e portava 100 milioni di euro alla Juventus, loro lo liberavano, perché in quel momento storico la Juventus non poteva permettersi i 10 milioni all'anno. Poi, poco alla volta, anche la Juventus, che è partita da Vucinic e Quagliarella, è arrivata a Higuain e Dybala, adesso addirittura a Cristiano Ronaldo. Quindi, Steven Zhang ha detto che il 26 ottobre vogliamo fare prima, essere più veloci. Sette anni ci ha messo la Juventus per passare da Matri e Quagliarella a Cristiano Ronaldo. Su Ning è arrivata nel 2016, più veloci significa per arrivare a corteggiare determinati giocatori di sette anni dal 2016, significa prima del 2023, quindi diciamo nei prossimi due anni. Ma già l'anno prossimo, credo che l'obiettivo dell'Inter dovrà essere quello di lottare con la Juventus per il campionato. Magari essere competitivi per la Champions, lì poi sono i dettagli, anche la fortuna, il sorteggio, le squalifiche. Lì magari anche un ottavo, un quarto di finale può essere l'obiettivo, visto che quest'anno non si è superato il girone. Ma gli obiettivi sono già in questa stagione, di tornare a lottare per vincere un trofeo. Mi ha fatto molto piacere leggere le parole di Politano, che dice l'Inter può lottare con il Chelsea, io aggiungo l'Arsenal, il Napoli, il Siviglia, il Valencia, queste squadre per l'Europa League. Quindi non è che bisogna già pensare solo al futuro e dimenticare il presente. Il presente significa finalmente l'Inter in questo anno, nel 2019, in questi quattro mesi, febbraio, marzo, aprile e maggio, inseguire un trofeo, anzi anche gennaio, perché a gennaio Benevento e forse Lazio, perché c'è Lazio-Novara, Inter-Benevento, agli ottavi determinano anche lì la Coppa Italia, potresti già arrivare in semifinale. Ma torniamo al mercato, perché interagiri mercato, leggerò le vostre domande, spero che la connessione mi assista. Che andrà via, dice Andrea, lo scrivono oggi, interessanti ci sarebbero dalla Spagna, ma anche dall'Inghilterra, dall'Italia, dall'Italia non credo perché poche squadre possono poi permettersi determinati ingaggi in fasce medio-bassa. Ma io vorrei fare un po', come facciamo spesso all'inizio e alla fine del mercato, un check-up ruolo per ruolo, anche per capire in prospettiva giugno se voi siete d'accordo, ma credo già ho letto il centrocampo, quindi siamo d'accordo che poi è quello il settore nevralgico, però aggiungere Godin a una difesa che ha già De Vrij e Skriniar inizia a ricordare, io ho scritto ieri sera quando abbiamo riportato su Facebook il discorso di Godin da Sky, che l'Inter del triplete aveva Samuel, aveva Lucio, e si aggiunse Lucio, ma aveva già Materazzi, aveva Cordoba, aveva Kivu che veniva anche messo terzino-sinistra, adesso sembra che non si può avere il terzo difensore, dice no perché se gioca Godin, se lo prendi deve giocare, quindi vuol dire che vendono Skriniar, no, non vuol dire assolutamente che si vende Skriniar, poi si potrebbero fare mille ragionamenti in base alle offerte, oggi è presto per dire quello che può succedere in estate. Per come la vedo io, per come la penso io, io rinuncio a un giocatore anche in altri ruoli, ma Skriniar e Icardi io andrei sicuramente a trovare un accordo per questo benedetto rinnovo, perché come dicevo in un'altra video news, quei sei bravi ragazzi, no, Skriniar, De Vrij, Politano e Brozovic, Icardi e Lautaro Martinez, questi sei, anche giovani, sono il punto di partenza, attorno ai quali poi si può puntellare, soprattutto a centrocampo. Ma andiamo con ordine, vedo un po' di messaggi, prima Francesco, grazie Francesco dei complimenti, un caro saluto e buon anno, diglielo tu che se ne va Miranda e non Skriniar, dice Vincenzo, stiamo provando a dirlo. Auguri a tutti gli interisti, Michele Colla, Amala, che oggi mi ha ricordato un gol fantastico, ieri abbiamo ricordato il gol di Giorcaef su assist di Ronaldo con la Juventus 1-0 del 4 gennaio 98, oggi, il 5 gennaio, è il gol che diede quel titolo bellissimo e Dio inventò il gol, Dio scritto con la J, DJO, se vogliamo, per non essere blasfemi, Giorcaef, quella palla che andò in aria, 3-1 con la Roma, poi ci fu anche un bel gol di Freisi, che però nessuno ricorda perché ci fu quel gol di Giorcaef favoloso, è veramente fantastico, votato come il miglior gol della storia dell'Inter davanti a Nicola Berti con il Bayern Monaco, ma speriamo di doverne vedere degli altri, in questi giorni l'Inter sta facendo votare, noi li stiamo riproponendo, i migliori gol del 2018, quello di Cardi per esempio col Barcellona, quello di Caramogol Bologna bellissimo, Lautaro in amichevole con l'Atletico Madrid, secondo me questi tra i proposti erano i tre più belli, ma anche quello di Politano, e oggi invece noi abbiamo riproposto, anche se sono di questi giorni, li stiamo scaglionando, per esempio gli assist, bellissimo l'assist di Perisic, con la SPAL ai Cardi a tagliare, proprio in verticale il campo, ma anche altri assist, mi è fatto piacere vedere quelli di D'Ambrosio, sia come assist che come poi finalizzatore, perché spesso viene bistrattato. E poi ci sono anche le migliori parate, che magari domani andiamo a far votare anche sui nostri social, sempre prendendo spunto dai social dell'Inter scatenati, tanti auguri anche a chi sta facendo crescere davvero tanto i social e l'Inter Media House con dei numeri che sono sotto gli occhi di tutti, anche in questi giorni si sono viste le varie classifiche con l'Inter in grande crescita, e non è solo un fatto di dire presentiamo l'Inter in un modo divertente o coinvolgiamo di più i tifosi, no, ha anche una conseguenza pratica, cioè se tu vai a fare mercato è perché hai più ricavi, e se hai più ricavi è perché hai più sponsor e più sviluppo del merchandising, anche in quei paesi dove l'Inter ha 200-300 milioni di tifosi, in Cina, in tutta l'Asia, ma anche in America, e quindi questo è il futuro, è l'unica strada, a me fa sorridere quando sento alcuni discorsi e vediamo adesso se Suning vuole investire o non vuole investire, Suning ha investito quello che doveva investire, adesso deve spingere l'acceleratore sulla crescita del club fuori dal campo, così come sta facendo, l'Inter sta avendo dei margini di crescita clamorosi, basta andare a vedere, ripeto, 2,40, 3,20, 3,50, questi sono gli ultimi tre numerini che vi potete giocare non all'otto perché sono a tre cifre, ma sono i tre numeri totali del fatturato dell'Inter negli ultimi anni. Adesso bisognerà superare i 400, l'Inter è già praticamente certa di questo perché ha i 50 milioni solo dalla Champions League, sui riscatti anche lì ho sentito di tutto, Salico, noi abbiamo fatto vedere come Politano è solo l'unico da riscattare in questo anno, gli altri sono primo luglio, ma al di là poi c'è da calcolare l'ammortamento, non la cifra totale, insomma se ne dicono di tutti i colori, però adesso voglio andare ai messaggi e soprattutto a questa analisi reparto per reparto sul mercato, diciamo più che di gennaio su quello estivo, cioè sul cercare di capire con voi se siamo d'accordo anche con quelle che sono le idee che sta sviluppando l'Inter in campo perché anche lì l'Inter deve crescere e ieri Spalletti lo ha detto, in casa ho gli acquisti, ha scritto adesso un tifoso sul mio diario, dice sì in casa il ripostiglio, e sì alcuni sono stati nel ripostiglio perché non so Lautaro Martinez, Keita, se vi ricordate l'anno scorso Cancelo nei primi mesi, ma anche Salico stesso, ci sono acquisti in Angolan che non abbiamo visto ancora al 100%, quindi l'Inter ha ampi margini di crescita e quei sei famosi punti con Sassuolo e Parma, se fosse stato utilizzato il VAR come è stato poi utilizzato dalla quinta giornata in poi, oggi avrebbero visto l'Inter a pochi punti dalla Juve, sarebbe stata a 45 e anche lì ci sarebbe da discutere, almeno su Juve Torino e Juve Samp, rigori scandalosi, almeno quello del 2-1 della Juve, quello con la Samp incredibile, così come quello non dato al Torino, saremmo stati molto molto più vicini, ma ripeto, adesso in questa stagione da meno 14 non si può parlare di Scudetto, si può parlare di avvicinamento al Napoli, si può parlare però di Coppa Italia e Europa League e si devono fare dei passi in avanti in questa stagione per mettere le basi nella prossima per lottare per lo Scudetto, che non significa, dice no, la Juve è lontana, non c'è bisogno di essere alla stessa altezza della Juventus, c'è bisogno di proseguire sul proprio percorso, quei 70 punti dell'anno scorso devono diventare 80 quest'anno e devono diventare 90 nel 2019-20, 90 significa, per esempio adesso 14 col subiti la difesa, si deve migliorare l'attacco, non negli interpreti ma nella manovra, perché l'Inter segna con tanti uomini, ma segna poco con gli altri che non siano i cardi, quindi si può migliorare sia la qualità del palleggio, del fraseggio e della ricerca proprio del giocatore smarcato, come quella di Perisic, l'assist è bellissimo con la spalla e poi si deve migliorare anche nella concretezza dei centrocampisti, perché Nainggolan può fare 7-8 gol, l'altro centrocampista, lì andiamo a vedere sul mercato che cosa può succedere e bisogna migliorare, proprio ogni giocatore deve portare un suo bagaglio di gol e, come dire, spalletti di elementi per quella scatola che va riempita. Auguri a tutti gli interisti, Amala Michele, Cugio, ciao Michele, notizie di mercato, sì adesso ne parliamo, oltre a Godin, che notizia tra l'altro, Godin, auguri direttore Gaston, ciao Sandron, ciao Michele, che ne pensi di un tersino sinistro per gennaio? Allora, no, per gennaio io credo proprio di no, perché a Samoa è una certezza, al di là degli errori con la Juve e col PSV Eindhoven, è un tersino sinistro di affidamento, anzi, sta dimostrando che può fare anche più partite di quelle che si poteva pensare, a dicembre soprattutto le ha fatte diverse consecutive, molto bene col Napoli, bene anche con l'Empoli. Adesso, oltre ad Asamoah, dopo l'infortunio, nella seconda parte di stagione, bisogna valutare definitivamente al secondo anno d'Albert. Quindi questa è una stagione che deve consolidare le basi e quindi bisogna andare a vedere anche d'Albert. Così come bisogna definire dall'altra parte, con D'Ambrosio, che resta sicuramente all'Inter, Ursalico, il riscatto. C'è un giocatore che può dare continuità, può avere anche dal punto di vista fisico una continuità di impiego, quindi nella stagione in corso Ursalico-D'Ambrosio-D'Albert a Samoa. In quella prossima, D'Ambrosio a Samoa, credo molto più sicuri, Salico e D'Albert contano anche la seconda parte di questa stagione. Importa, Andanovic sicuro, ancora due anni e mezzo di contratto. Sugli altri, Padelli potrebbe anche scalare a fare il secondo o comunque il terzo e inserire un giovane, un giocatore, per esempio a me piace Radu, ma sono anche lo stesso di Gennaro, secondo me potrebbe per esempio fare il terzo, il secondo, quindi scalare dal quarto portiere come quest'anno. E quale sarebbe il vantaggio? Quello di avere un giocatore in più in lista. L'Inter l'anno prossimo in Europa recupererà finalmente la lista da 25, ma di questi 25, 4 devono essere del vivaio. Quindi se tu metti Radu e Di Gennaro, per esempio, secondo e terzo portiere, in questo caso però significa non confermare Padelli, oppure hai Padelli per il campionato, lo stesso quattro portieri, però in Champions avresti Radu e Di Gennaro, hai già due posti che tu comunque occupi con due giocatori del vivaio, potrebbe essere molto interessante. Ribadisco, Benassi e Duncan non servono per la lista europea, perché non hanno completato il terzo anno nell'Inter prima dei 21 anni. Quindi sono a prescindere, tra l'altro io, Benassi e Duncan, sì, li stimo come giocatori, ma l'Inter adesso al centrocampo deve aggiungere qualcosa di meglio di quelli che ha. Quindi arriviamo al centrocampo. I terzini l'ho detto, il portiere l'ho detto, difensore centrale, Godin, Skriniar e De Vrij, sono tre top, secondo me non per giocare con la difesa a tre, ma perché devi avere sempre un grande ricambio. Il quarto, se va via anche Ranocchia, come sembra, come dicevo prima, Inghilterra o Spagna, ma più, in queste ore si dice del Villareal, ma secondo me alla fine la Premier potrebbe essere una destinazione, il difensore della Samp, Andersen, potrebbe essere un'operazione alla Skriniar, ma io non dimentico Bastoni e Van Oysden, che sono due giocatori che secondo me, se ha il Godin, De Vrij e Skriniar, possono benissimo fare i quarti. Bastoni già sta giocando in Serie A nel Parma a meno di 20 anni, Van Oysden, sempre classe 99, finalmente sta giocando con continuità in Belgio, sono veramente due giocatori più che promettenti, sono due giocatori dal futuro certo, quindi poi avere anche un giovane nella batteria, anche se De Vrij e Skriniar sono giovani nella batteria dei quattro, secondo me ci sta. Quindi questo è un po' il discorso difesa, l'Inter non ha, se davvero adesso a febbraio arriva la firma di Godin, non ha cose clamorose da fare. Ripeto, valutare Salico e Dalbert nella seconda parte di stagione, i difensori centrali puoi anche avere un tuo giovane come quarto. Centrocampo, e qui arriva il bello. Isabella, ciao, corazza, auguri a tutti, grazie a tutti quelli che stanno mettendo i like, che si stanno collegando, tutti i gruppi che conosciamo, saluto Sangue Nerazzurro, tutti gli interisti di Facebook, Milano interista, rivolgiamo alla grande Inter, il gruppo di interismo, gruppi nuovi che stanno nascendo, non vorrei fare torto a nessuno, io poi di solito noi condividiamo nei 5-6 gruppi principali, anche perché poi attivanti Facebook è attenta a bloccare tutto. Grazie a quelli che si iscrivono sempre al canale, stiamo per ripartire a pieno regime, nei prossimi giorni ancora qualche video news, qualche, credo, martedì, un altro interagire come oggi, poi riparte Obiettivo Inter, riparte la Coppa Italia, le videopaggelle, le analisi tattiche, Fortu Free One, Obiettivo Inter e tutto il resto, anzi, implementeremo di tanto le video news brevi, quindi avrete una specie, se vi iscrivete al canale InterfanTV e attivate la notifica con la campanella, avrete durante la giornata due o tre volte la possibilità di avere un aggiornamento di tre minuti, quattro minuti al massimo, su quello che è una notizia del giorno, quindi non avrete poi più bisogno di andare a cercare a destra e sinistra. Quindi questa è la novità che stiamo per proporre in questo 2019. Ciao Taduic, buonasera Ilki, Tano95, il ninja ha deluso tantissimo senza esplosione, crea caos nello spogliatoio se non mi dia la seconda metà della stagione da cedere. Tano95, allora io mi aspetto veramente tanto da Nainggolan, oggi l'ha detto anche Politano, è un giocatore fortissimo, attenzione perché Nainggolan a mezzo servizio ha portato all'Inter più di due punti a partita, quando non c'era lì, non è che li ha portati da solo ovviamente, però non è un caso se l'Inter ne fa invece uno di punto a partita, cioè meno della metà quando lui non c'è stato. Ovviamente io adesso poi lunedì magari ci sarà la videonews con i voti dei sette acquisti e ve li dirò, secondo me non è sufficiente Nainggolan di questa prima parte, però un Nainggolan non sufficiente fa vedere una grande differenza rispetto a quando Nainggolan non c'è. Quindi io mi aspetto veramente tanto e siamo d'accordo se diciamo spostiamo il giudizio alla fine di maggio perché secondo me Nainggolan si prenderà l'Inter e risponderà a tanti che oggi Zaniolo è fortissimo, Nainggolan non è nessuno, tra l'altro Zaniolo ha fatto un gol, se andiamo a valutare i gol, però è giovane, ho capito, ma io se devo fare un quarto di finale di Europa League contro il Chelsea e devo schierare la formazione titolare, chi voglio? Zaniolo o Nainggolan? Tutta la vita Nainggolan. Poi ovviamente ognuno la può pensare in modo diverso, ma credo che l'Inter oggi deve avere una squadra giovane ma anche dei giocatori che ti trascinano in campo. Poi sono d'accordo fuori dal campo ma lo si sapeva che Nainggolan aveva anche degli asterischi altrimenti al posto di costare 24 più Santon e Zaniolo sarebbe costato 80-90 senza quegli asterischi. E poi se la carriera sua finisce a 34 anni anziché a 40-41 come Zanetti sarà perché ha fatto quella vita fuori dal campo. Andiamo però al centrocampo, intanto saluto White, Zekrom, ciao Michele Forza Inter, Frank Nerazzurro, buonasera direttore, se abbiamo la possibilità un giocatore a centrocampo, Forza Inter dal Maryland, Sergio Adami, grazie Francesco De Falco per i complimenti, se non mi sbaglio mi ricordo di te Michele che ti mangiavi le mani quando Godini era vicino alla Juve quest'estate, è vero Bobo, io non ho problemi a dirlo anche se vanno in altre squadre quando un giocatore è forte, anche quando si parlava di Milan, a me dispiaceva molto perché anche quando l'Inter ha preso Miranda, dicevo sì, Miranda è fortissimo, però il fuoriclasse assoluto è Godin. Godin adesso magari si inizierà la parabola discendente, però all'Inter è che viene a fare il titolare inamovibile, viene a rinforzare una squadra già forte, l'Inter non è più quella del 2015 in cui arriva Miranda e si comprano 11 giocatori, l'Inter del 2019 è un Inter che è già la seconda forza del campionato, più o meno come il Napoli, dalle parti del Napoli, quindi adesso c'è una squadra avanti, ma noi ripeto, non dobbiamo vedere la squadra avanti, dobbiamo vedere il nostro di percorso, arrivare quest'anno a 80 punti, l'anno prossimo a 90 punti, a 90 punti si può lottare per il campionato, poi bisogna andare, come ha detto per esempio Marotta, quando dice Chievo-Inter, o dopo Empoli-Inter non bisogna mai sedersi, cioè la mentalità che vincere una partita deve essere normale, è qualcosa di scontato, e quando non vinci invece non lo devi accettare, devi lavorare di più, devi essere arrabbiato per tutta la settimana, devi aumentare tutti i famosi elementi che si mettono nella scatola, come dice Spalletti, i contrasti, le scivolate, i tiri in porta, le rincorse, però oggi l'Inter ha per esempio un centrocambista come Brozovic, che rispetto già all'anno scorso, perché a marzo inizia il suo processo di miglioramento, un giocatore clamoroso, se andate a vedere i passaggi effettuati, la precisione dei passaggi effettuati, ma soprattutto la fase di interdizione, oggi io credo che Brozovic, e sono sicuro che a maggio potremmo dire, anche Nainggolan, l'Inter parte da due a centrocampo, poi gli altri quattro, allora gli altri quattro, bisogna sicuramente andare sul mercato e migliorare, ma un giocatore come per esempio Joe Mario, si sta vedendo, non è il gol, non è il tiro, però non è il bidone che qualcuno voleva far passare negli anni scorsi, allora va recuperato, è già in parte recuperato, deve avere ancora continuità, sarei felicissimo se Spalletti, più di dire Ovesino Gagliardini per forza, può giocare anche con Nainggolan e Brozovic, Joe Mario, lo fa ormai con continuità da Roma-Inter, il mister di mettere questo centrocampo con più qualità, spesso con Borca Valero, ma perché non c'era Nainggolan, adesso con Nainggolan, Brozovic, se il terzo è Joe Mario, secondo me l'Inter migliorerà molto, anche dal punto di vista della qualità, proprio della gestione, se hai Nainggolan che tira, il fatto che Joe Mario non segna quasi mai, si può camuffare un po' di più, perché lui abbiamo visto per esempio, anche quando si gioca 4-4-2, può partire da più dietro, ed è bravo a inserirsi, è bravo ad andare a trasformare l'azione da difensiva in offensiva, quindi per esempio uno Joe Mario, può anche essere nella rosa dei sei centrocampisti, della prossima stagione, Borca Valero può essere benissimo, all'ultimo anno ne ha firmati tre di anni, quindi può rimanere benissimo, anziché essere il terzo come oggi, e il quarto, la prima riserva può essere il sesto, quindi devi comunque avere un terzo e un quarto, cioè un titolare e un giocatore che può togliere il posto a un titolare, quindi secondo me a centrocampo due giocatori, uno di carisma e di esperienza internazionale, il famoso grande colpo, deve arrivare a centrocampo, sapete tutti il mio grande amore per Milinkovic, Milinkovic, Savic, anche lì lo dico prima, se va la Juventus o va il Milan, mi dispiace tantissimo, non credo che il Milan, a parte stratagemmi che oggi non sono prevedibili, possa andare a prenderlo, però il calciomercato, mai dire mai, vendono Donnarumma, vendono Iguain, magari vanno su Milinkovic, il Milan tra l'altro è una squadra di tanti giovani, dovrà avere adesso a che fare con i paletti, il paleggio di bilancio, hanno fatto ricorso, vediamo come va a finire, ma comunque non sarà per il Milan facile come per l'Inter aumentare il valore della squadra, vista la base di partenza e vista anche la possibilità economica di andare, di spendere, di andare sul mercato, quindi Milinkovic Savic per me sarebbe il numero uno, più di Kroos, più di Modric, più di chiunque, perché è giovane, è forte fisicamente, ha il tiro, con Nengolan e Brozovic, formeresti un centrocampo veramente super strepitoso e poi ovviamente come seconda tipologia resta Barella, secondo me Barella sarebbe sia una riserva di Nengolan che una riserva di Brozovic, che una riserva di Milinkovic Savic, visto che si giocano tre partiti a settimana diventerebbe un titolare praticamente spesso e volentieri e poi, e poi visto che Nengolan ha almeno, voglio dire, non più di due, tre, quattro anni di carriera, Barella è un 97, anche Nengolan ha detto il mio erede, tu avresti già in casa il suo erede, per me anche i 40-50 milioni di cui si parla li vale, te li devi poter permettere, non è semplice andare a prendere un giocatore da 100 milioni come Milinkovic Savic e uno da 50 come Barella, io ho detto anche al posto di chiesa per esempio, perché prima dicevo Barella è chiesa e il mercato è a posto, poi durante l'anno vedendo la prima parte di stagione ho detto secondo me più due centrocampisti anche senza un esterno, a costo di non avere un esterno, se proprio devo sceglierne solo due, poi si può anche cedere qualche giocatore, ripeto se c'è di Perisic oggi, lo diciamo tutti, lo dicevo già nell'estate del 2017, secondo me si poteva arrivare anche al quarto posto l'anno scorso, poi si è arrivati al limite, Perisic ha fatto 11 gol e 11 assist, quindi è stato decisivo, 40 milioni poi non te li davano più, 40-50 probabilmente in questa estate, sappiamo quanto Spalletti stimi Perisic, e però per esempio i quattro gol di Keita nelle ultime sette giornate di campionato, ma anche gli assist, anche la pericolosità sottoporta, fanno vedere il margine di miglioramento che ha Keita, Perisic è un giocatore molto tattico, è un giocatore che però secondo me non è mai continuo e poi tu devi vedere l'Inter come un punto d'arrivo, non come un punto di passaggio, quindi quello è fondamentale secondo me, quindi se Perisic si può monetizzare in estate, io non mi strapperei insomma le vesti e i capelli, poi però bisogna sostituirlo, così come Candreva, Ranocchia l'ho già detto, su Candreva io andrei su Caramò, quindi Caramò che sta crescendo, Caramò, Politano, Keita, ripeto il riscatto il primo luglio, quindi si può prendere Keita, Lautaro, Icardi confermatissimi, ti mancherebbe ancora un esterno e oltre a Perisic, se prendi i due centrocampisti, devi provare a fare cassa con o Vesino o Gagliardini o tutti e due se arrivano delle offerte, quindi una ventina di milioni da Vesino, anche 25, una ventina di milioni da Gagliardini se ci sono, una quarantina da Perisic se ci sono, diciamo che con altri giocatori, che si possono anche piazzare, qualche giovane eccetera, arrivi a un centinaio di milioni di tesoretto per provare a prendere anche l'esterno oltre a Keita, non è facilissimo, cioè secondo me non si può arrivare a prendere Milinko i cento, Barella 50 e Chiesa 70, sono 220 milioni, senza cessioni, rinuncio ad uno dei tre o comunque se Milinko i Savic bisogna vedere l'asta, Barella bisogna vedere l'asta perché se arriva una società inglese e lui è d'accordo e gli danno 60 milioni in Inghilterra, hanno questa forza di poter fare offerte fuori mercato, l'Inter non è che può offrire per Barella 60, 70, 80, può andare dietro a qualsiasi tipo di rialzo dall'Inghilterra, quindi non sono scontati, però diciamo questi tre secondo me sono i numeri uno come obiettivi, cioè il centrocampista top potrebbe essere Milinko i Savic se riesci, poi hai i piani B, Barella il secondo a centrocampo e Chiesa all'esterno con le cessioni non so di Vesino Perisic, di poi Candreva, di Miranda, abbiamo detto che con Caramoe e Bastoni o Vanoisden non c'è bisogno di andare a prendere per forza acquisti in cui paghi il cartellino, più cioè pochi ritocchi meno possibili, più forti possibili e meno possibili, per il resto Icardi e Skriniar certo bisogna andare a trovare l'accordo, non sarà facile e davvero bisogna provare però a trattenerli in tutti i modi, anche se non si può dare anche lì niente per scontato, lasciamolo all'Atletico per bastonare la ladra di Torino lo prendiamo a giugno dice Bernard, no certo ma Godin è per giugno, non è per febbraio, bisognerebbe firmare svincolato, e lui il 30 giugno scave il contratto e arriverebbe nel 2019, denti. Frank arriva a giugno Godin dopo aver purgato la ladra, dice Frank, ma dove ti trovi? In una baita Giuseppe, sono a Orsara di Puglia, qui ci sono 30-40 cm di neve, ho appena finito di togliere un po' di neve dalla macchina, e quindi io sono originario di Orsara, siamo in collina, alta collina, ma è storico, storicamente a gennaio arriva la neve, Sandro Nalex, un terzino sinistro, un terzino sinistro, sì, il terzino, ripeto, si valutano Salico e Dalbert a fine anno, quindi ad oggi non c'è da fare spostamenti, ma anche su altro, io, secondo me Spalletti, non è che lo dice per dire, è normale che se c'è un'occasione di mercato la vai a sfruttare, ma oggi l'Inter, vedete che cosa significa aver avuto un allenatore per due anni? Significa che tu hai otto difensori, sei centrocampisti per tre posti e sei attaccanti per tre posti, e non hai nemmeno visto il massimo potenziale, quindi tu sei coperto, non hai, come negli anni scorsi, una toppa, una pezza da mettere, i ruoli sono coperti, devi solo adesso migliorare il livello, e ripeto, toglierti tutti i dubbi in questa di stagione, anche, anche se vogliamo, sul progetto tecnico, perché anche Spalletti si guadagna, si guadagna in questa seconda fase, continuando ad avere un certo trend in campionato, lottando per vincere le due coppe, la conferma, niente, anche lì è scontato, e sarà molto importante capire non solo la svolta tecnica del centrocampo, con non per forza il giocatore fisico, Mono Gio Mario, per esempio, in questa seconda parte, ma anche col discorso delle due punte, come ha detto per esempio Zanetti, Lautaro si sta piano piano prendendo l'Inter, sta facendo adesso sempre più presenze e più minuti, ma anche Keita con Lautaro nella seconda parte devono essere sfruttati di più. Simone dice, a questo punto vendiamo Skriniar a malincuore e compriamo un Super Big al centrocampo, no? Simone, il Super Big si può prendere senza vendere Skriniar, secondo me, se no, è come la tela di Penelo, togli e metti, togli e metti il gruppo storico, i sei bravi ragazzi non si devono toccare, Lautaro Icardi, Skriniar De Vrij, Politano e Brozovic, poi il resto si deve aggiungere pezzo per pezzo e già quest'anno, ripeto, quando io dicevo bisogna dare fastidio alla Juventus, ripeto, i sei punti col Sassuolo e col Parma per errori del VAR che non è intervenuto, l'Inter faceva 45 nel giro in andata e era proiettata a 90, tipo il campionato del Napoli dell'anno scorso, si può fare, e hai perso punti col Chievo, con la Roma, con l'Atalanta, ovviamente in qualche altra partita, il Torino, la Juventus, ma quelli le lascio, io metto solo gli errori clamorosi di Marco sulla linea, rigore, a Samoa clamoroso, rigore, e quindi lì cambiavano due partite, 45 secondo me era l'obiettivo di questo giro in andata, infatti io a 39 ho dato 5,5 al risultato finale, però comunque l'Inter dà l'idea di essere molto più solida dell'anno scorso, l'anno scorso quando ci fu il calo non aveva grande personalità, adesso invece, ripeto, Nainggolan sarà fondamentale, Brozovic l'hai già scoperto regista, hai dei terzini in più, hai Keita e Lautaro Martinez che non avevi, hai delle soluzioni a partite in corso, cioè l'Inter oggi ha la rosa per poter puntare anche alle coppe. Ciao a tutti, a Claudio, anche ciao a Gianni, la cosa bella è che ieri prima di dimarsio nessuno sapeva nulla, oggi fanno tutti gli espertoni, sanno che venderemo screen alle strategie dell'Inter, eccetera, eccetera, poi i Gazzetta sono stati, credo, credo, poi non voglio fare torto a nessuno ieri sera su Godin, John Spartan, i giocatori vanno e vengono se ci offrono una cifrona per Skriniar, lo venderai tranquillamente con quei soldi, compro e comprati la squadra, no, io non sono d'accordo su questo, perché è importante anche creare il gruppo, migliorare come intesa, proprio come spogliatoio, non è solo la somma di giocatori forti e anche avere un feeling di squadra, Skriniar lo vedo, proprio uno che trascina, che migliora gli altri, De Vrij è bravo a costruire, ma ha beneficiato già di, non so, lo stesso sottovalutato d'Ambrosio, adesso anche a Samoa, che è un giocatore, anche come persona, sono giocatori importanti, secondo me, anche dal punto di vista caratteriale, e poi ci sono quelli che vanno trascinati, i famosi Joao Mario, Politano poco alla volta sta migliorando anche a livello di personalità, si può migliorare ancora, si può migliorare ancora tanto, per esempio l'evoluzione di Cardi, nell'ultimo mese, secondo me è molto, molto positiva, perché apre le porte agli inserimenti di Nengolan, all'accentramento al sinistro di Politano, al fatto che Keita può giocare più spesso al posto di Perisic e tirare in porta, e Keita ha fatto 16 gol in campionato, Keita, due anni fa, la Lazio ha fatto 16 gol in campionato, a 21 anni, adesso ne ha 23, può fare benissimo a doppia cifra, adesso ne ha fatti 4 in 7 giornate, perché ha iniziato a vedere un po' di più il campo, e poi in alcune partite può giocare anche Keita e Perisic esterni, si può ormai fare il 4-3-3, prima si faceva solo il 4-2-3-1, e nel girone di ritorno si può iniziare a provare anche questo discorso della difesa a 3 con Lautaro titolare, quindi ci sono ancora dei miglioramenti o delle soluzioni che ti possono dare dei miglioramenti evidenti. Allora, Godini se viene acquistato fantastico a 0 nei livelli di screen con più esperienza, quindi più forte, dice Tano, sono d'accordo. Luca, ciao caro Michele, possiamo ancora consultare il palinzesto del sito e ancora in assestamento? No, no, si può sempre consultare. Luca, proprio ieri, l'altro ieri lo correggevo, perché era previsto il mio ritorno a Milano già da lunedì 7, invece slittato di qualche giorno, e quindi ho fatto delle modifiche, quindi ci saranno le video news, interagire, e ancora video news lunedì, martedì e mercoledì, poi da venerdì dovrebbe cominciare con obiettivo Inter il palinzesto, e l'ho già corretto su InterfanTV, se ci saranno altre variazioni in questi giorni potete tenere sempre interfantv.com l'home page come riferimento. Candreva può rimanere per me, dice Sandron, ma si può rimanere, ma io se fossi un giocatore di 31 anni andrei a togliermi delle soddisfazioni dove posso avere continuità. Poi quest'anno a stagione in corso secondo me può anche essere utile, ripeto, per le rotazioni, per le coppe, quindi però a giugno secondo me non ha molto senso per Miranda, per Ranocchia, per Candreva, fare sempre tanta panchina. Skriniar va tenuto, non abbiamo bisogno, dice Francesco Mancini, di soldi, io rifiuterei qualsiasi offerta, anche quelle assurde, da oltre 100 milioni, perché Skriniar da 22-23 anni è il futuro. Io sono abbastanza d'accordo. Gaston dice, zitto zitto, costruiamo una grande squadra, lasciamo i proclami di calciomercato ai Gobbi e alla loro stampa. Luciano, buonasera Michele, buonasera a tutti, ciao, grande Alex, anche saluti ad Alex, grazie, la cosa sconvolgente è leggere che con l'acquisto di Codini già si parla di Simeone. Sì, tra l'altro Ausilio ha detto stiamo programmando il futuro con Spalletti, però passa inosservato, anche perché nel passato aveva detto 11 Mazzarri, ho capito, però era un'altra situazione societaria, c'era un altro tipo di instabilità. Oggi l'Inter ha tutti i tasselli, l'ultimo è stato Marotta, ha un amministratore delegato, l'amministratore delegato Sport, ha un direttore generale, ha un direttore sportivo, ha l'area marketing super completa, l'area comunicazione che si è sviluppata in modo incredibile, cioè quindi non hai più una società che dici chissà adesso come si evolverà. C'è stato il tentativo con Sabatini, è andato male, diciamo c'è stato più a un certo punto quel feeling che serviva, adesso si è scelto Marotta, ne abbiamo parlato tante volte dei pro e dei contro, adesso si va su quella strada Spalletti secondo me ha ancora le sue carte ripeto un Inter che fa secondo posto a 80, Coppa Italia Europa League o anche solo una delle due è una stagione da 9, quindi può poi fare invece quarto posto a 67-68, Coppa Italia ai quarti in casa con la Lazio e Europa League agli ottavi con quella che verrà dopo speriamo il Rapid di Vienna perché il Rapid di Vienna bisogna superarlo per forza e secondo me la stagione è da 5 quindi può succedere la stagione è ancora tutta da vivere secondo me non è giusto proiettarsi sempre solo nel futuro ma bisogna andare anche a godersi finalmente l'Inter non avrà più quelle stagioni l'Inter negli ultimi dieci anni è arrivata settima ottava nona è arrivata sesta poi ha fatto un quinto due quarti posti adesso basta tutti questi posti dal quarto in giù basta ma anche il terzo negli anni prossimi deve essere un'eccezione il terzo posto l'Inter deve lottare sempre per il primo posto in campionato e andare avanti dopo i gironi di Champions poi lì vabbè sarà un discorso anche di di sorteggio di crescita del re ranking eri 83 adesso sei 55 nel ranking devi arrivare nei primi 20 per tornare almeno in seconda fascia ma adesso già se l'Inter fa un ottimo Europa League e riesce ad arrivare in terza fascia la vedo molto difficile per quest'anno però nel giro diciamo di due anni devi arrivare almeno in terza fascia poi nel 2021 devi arrivare in seconda fascia e lì inizia a poter anche gestire un sorteggio ma purtroppo serve il tempo il tempo è necessario però non capisco quelli che non hanno più pazienza cioè la pazienza era difficile da avere negli anni scorsi quando eri lontano adesso giochi le partite con la Juve con la Juve te la giochi la partita sei andato a Torino hai perso 1-0 ma hai preso il palo il primo tempo hai giocato meglio poi nelle altre partite dove c'è il gap cioè vincere tutte le domeniche con le piccole e lì è un processo di crescita che si può fare anche con questi quindi sì è bello il mercato perché deve mettere più giocatori di qualità e l'Inter ha creato ormai i presupposti per farli a queste operazioni però è bello anche vedere adesso la crescita di Ursalico di Keita di Nainggolan di Icardi a 26 anni che non sarà Icardi dei 23 di 24 anni Lautaro Martinez che abbiamo visto ancora pochissimo la coppia di Ebrai Skriniar che non c'era per esempio con l'Atalanta o con il Sassuolo quindi l'Inter ha già questa così come margini poi ancora ciao Michele Andrea Gravina buon anno inizio a pensare che diciamo ciao Skriniar dopo questa stagione no Andrea lo sapevo che tu sei spesso negativo un po' pessimista per come sono io che a volte sono troppo ottimista però qui sono d'accordo con Zacchi per evolversi per andare nel futuro devi pensare in positivo altrimenti la soluzione positiva non ti viene proprio se tu già pensi in negativo hai creato le premesse per andare all'indietro Gaston diamo sti benedetti milioni ai Cardi figuratevi Rabiot a prendere 10 milioni Spagna al Barcellona e lì già sono a certi livelli ripeto vedete il percorso della Juventus che ha dato i 3-4 milioni ai suoi giocatori che prendevano il massimo anche lo stesso Allegri poi a un certo punto dal 2011 al 2016 è passata con Higuaín e Pjanic aveva venduto Pogba perché non poteva dargli 10 è arrivata Higuaín a 7 poi Di Bala a 7 poi Allegri a 7 quindi in 5-6 anni poi al settimo anno di questo percorso dove non ha avuto tra l'altro rivali sullo stesso livello perché Napoli e Roma non avevano l'Inter e il Milan men che meno adesso invece l'Inter andrà a battagliare vedete su tutti anche i parametri zero sui giovani della Serie A sui giovani dell'estero c'è sempre il duello cioè la Juve non ha più campo facile i giocatori quando l'Inter arriva l'Inter volentieri vanno ad abbracciare il progetto allora vado un po' più veloce per recuperare un po' di messaggi quindi dicevo i due centrocampisti secondo me si devono prendere e si prenderanno sicuramente anche un giovane magari e uno di spessore internazionale davanti e davanti se perdi Perisic un esterno un esterno serve però ripeto a livello di nome potrei mi accontento anche dei due centrocampisti anche di un centrocampista e un giovane poi con Godin e un esterno in attacco un esterno in attacco può essere anche un'occasione di mercato giusto per completare la rosa già sarebbe una ottima base per andare a lottare per lo scudetto del 2019-20 ciao Intergazza Michele dando per fatto l'acquisto di Godin la cosa da evidenziare no non lo diamo per fatto fin quando non ci sono i film e non si sa mai la cosa da evidenziare è l'attirare i campioni di questo calibro siamo entrati in quell'ottica col paccio sì sì sono d'accordo con te Intergazza cuore forte nero azzurro ciao Michele auguri di buon anno a tutti grazie anche a te Spalletti è bravo ma c'è di meglio dice Marco Loslav Zanieri vabbè c'è sempre di meglio a parte quando l'Inter ha avuto Murigno sì sono d'accordo c'è di meglio però Spalletti è anche un allenatore che non ha mai avuto una squadra da scudetto e se Spalletti con la squadra da scudetto anche lui fa ancora un passo in avanti e diventa anche lui allenatore da scudetto finora non ha mai avuto una squadra da scudetto ha vinto il campionato in Russia con lo Zenit due volte non era scontato ha vinto le Coppe Italie una supercoppe italiana contro l'Inter di Mancini ma era più forte l'Inter di Mancini è arrivato secondo con record di punti alla Roma ha vinto la panchina d'oro con l'Udinese è arrivato in Champions League con l'Udinese adesso è un allenatore da scudetto già quest'anno si può iniziare a rispondere a questa domanda ripeto per come affronterà il doppio impegno la rotazione perché il turnover quando ci sarà la partita giovedì domenica giovedì o giovedì domenica mercoledì semifinale Coppa Italia febbraio e marzo saranno fondamentali e poi se si va avanti nelle coppe ovviamente aprile e maggio quindi Spalletti quest'anno già può dare delle risposte in ottica progetto poi non è che a 60 anni 7 marzo compie 60 anni non è che bisogna scoprire le qualità di un allenatore a 60 anni secondo me ha già dimostrato di essere un allenatore di un livello di un livello alto o di un livello massimo questo lo sapremo al riscontro proprio degli obiettivi massimi quando hai gli obiettivi massimi puoi dimostrare di essere un allenatore di livello massimo Marcello io ho paura che per rientrare nel fair play ci siamo persi dei giovani come Zaniolo che ne pensi ma il rischio c'è sempre così come quando adesso per esempio vai a prendere i giocatori si parla in questi giorni di Romero del Geno e Andersen della Sampdoria non è che tu puoi prendere 18 difensori centrali alla fine uno ne devi andare a prendere e quindi magari un altro va da un'altra parte così come Ausilio diceva in questi giorni Coutinho un rimpianto Kovacic un rimpianto lì se avessi avuto continuità di guida tecnica magari non andavi a cambiare ogni volta Coutinho poi Kovacic e poi arriva che